C'è fiducia per il turismo nell'anno della capitale della cultura, diverse le richieste per trascorrere alcuni giorni di vacanza a Pesaro. Il presidente dell'associazione pesarese albergatori Paolo Costantini è convinto che quello appena iniziato sarà un anno positivo per quanto riguarda il turismo. Segnali incoraggianti sono arrivati durante le festività natalizie con importanti interessamenti nei confronti della città di Pesaro. Riscontriamo che già dalle settimane scorse durante le festività natalizie ci sono stati comunque degli importanti interessamenti verso la nostra città e quindi ci attendiamo un buon riscontro. Siamo ottimisti da questo punto di vista, le strutture ricettive sono pronte ad accogliere i turisti e chi vorrà vedere la nostra città, quindi siamo preparati e pronti a partire in attesa del 20 di gennaio. Sabato è una festa ed è una grande apertura. Come ho letto già sui giornali, come è stato presentato ieri, l'affluenza è molto elevata e ci attendiamo che ci sia un ottimo riscontro. Richieste che arrivano tramite canali web e classici, persone ma soprattutto gruppi organizzati che vogliono conoscere la città. Non preoccupa invece l'allarme lanciato nei giorni scorsi quando si è parlato di pochi posti letto per grandi eventi e strutture ricettive non disposte a restare aperte in bassa stagione. La nostra ricettività in questi anni sta comunque cambiando, sta migliorando e si sta qualificando e riqualificando. Una naturale alternanza tra estate e inverno l'abbiamo perché ovviamente non ci dobbiamo dimenticare che siamo una località balneare con l'80% di attività d'estate e quindi di ricezione nell'attività estiva. Ovviamente la riflessione sul 2024 sarà proprio quella tra gli albergatori e tra gli addetti ai lavori di capire come affrontare la famosa destagionalizzazione. Sperando che questa sia la parte iniziale poi di approfondimento e di ragionamento su come affrontare i prossimi anni. Un 2024 importante per la città di Pesaro ma che anno sarà per il turismo e quindi anche per gli albergatori? Ma allora ospichiamo che diciamo già dalla Pasqua, quindi quest'anno la Pasqua è il 31 di marzo, si possa iniziare ad avere dei flussi interessanti di turisti. Siamo come sempre un po' carenti sul mese di maggio anche se notiamo una maggiore vivacità. Quello che si sta invece presentando è sul mese di settembre-ottobre saranno dei mesi molto interessanti da tenere monitorati proprio per il discorso della destagionalizzazione. Sarà quindi un anno da monitorare mese per mese. Grazie.